Il colore è un colore Il presidente del consiglio comunale di Villorba Grazie a tutti, buonasera Io rappresento l'amministrazione di Villorba con i saluti del sindaco Serena che questa sera non può essere presente il nostro è il monocolore verde credo l'ultimo rimasto in Italia dopo le notte vicende Sentendo gli interventi del dottor Ferravanzi e del professore mi ha subito una cosa molto simpatica Il comune di Villorba ha dato un Natale in Italia a un illustri cittadino, il dottor Pastro il dottor Pastro che fu volontario nei moti del 48 a Venezia collaborò pesantemente con Daniele Manin e con Niccolò Comaseo per la fondazione della Repubblica di San Marco Loro hanno combattuto per la Repubblica di San Marco e da subito lo Stato Italia lo Stato in Italia ha travisato i loro principi questo per dire che, e mi dispiace per il dottor Ferravanzi perché noi abbiamo avuto una miliare di uomini, donne, bambini che hanno combattuto e perso la vita per dei principi unitari che di unitari non ci sono purtroppo la falsità in questo momento è di parlare di Stato unitario è una falsità che viene anche sancita dalla Costituzione scusate, nel momento in cui con l'articolo 117 della Costituzione si stabilisce che ci sono figli migliori rispetto ad altri quindi la regione è stato speciale o per esempio con l'articolo 114 che mi dice che lo Stato, la Repubblica è fondata da comuni, province, città metropolitane regioni e Stato scusatemi, c'è qualcosa che non mi torna perché non mi torna? Perché è un po' come se noi abbiamo una legge dello Stato, il codice della strada che dice che tutti possiamo andare, dobbiamo andare a 50 all'ora ma c'è qualcuno che può permettersi di andare a 130 e non viene sanzionato questo è il problema che lo Stato non ha in Italia e sulla scorta di questo il movimento independentista il fatto di passare questo referendum è fondamentale ma non lo dice un veneto ne lo facevo prima vedere il professore lo dice la mozione 224 della regione Sardegna questa è di un anno e mezzo fa dove, voi sapete come sono gli atti pubblici sentito, 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 visto, visto, visto 800 pagine quello che conta sono le ultime righe e dice affermando il diritto della nazione sarda alla propria lingua e all'insegnamento della storia della cultura e della lingua sarda nelle scuole di ogni ordine e grado dell'isola dichiara solennemente la Sardegna nazione indipendente fa voti affinché la dichiarazione di indipendenza della Sardegna sia sottoposta al voto del popolo sardo attraverso il referendum consultivo mi scusi sindaco anche loro hanno votato sulla Costituzione hanno giurato però proprio perché la Costituzione permette di poter fare un passaggio legale democratico per parlare di indipendenza di un popolo questo non vuol dire che il suo giuramento venga a meno questo è il problema è il problema perché a questo punto parliamo la nostra lingua visto che qua tutti quanti non capiscono è il problema, è molto semplice gli altri, ogni giorno e parla l'amministratore siamo costretti a subire rapine da parte del governo centrale cosa succede? cosa è successo per il tuo giorno? e ora il governo Monti dichiara e dice tranquillamente che gli edifici pubblici non si è soggetti a I.M.U. bene ne riva casualmente su il piancio domenica e 12 chiuso ne riva a maggio scusami sì a maggio di questo anno un prelievo di 270.000 euro per l'I.M.U. dei mobili dei mobili del comune di Riorva e ora dice la legge dello Stato che ne impone come enti di avere una scuola elementare e una scuola media mi va bene che mi mette l'I.M.U. su una paestra perché l'I.M.U. su una paestra non mi ha ordinato un dottore di avere la paestra sua biblioteca non mi ha ordinato un dottore di avere la biblioteca ma ti che mi obblighi di avere scuola non ti puoi mettermi l'I.M.U. su una paestra a un bianco sarà questa casa mia è rapina è rapina perché il punto fondamentale se che deve essere dei parti e ora mi va bene che ci sia i parti quello che non mi va bene se io dico mi sei anticostituzionale però quando che non fai voli sei legittimo professore mi dai una mano su sta roba perché bisogna anche dare il sentimento che uno ha una valenza giuridica e ora voglio dire questo è il vero problema neanche non possiamo ogni due mesi avere un cambio di fatto di stabilità sul fatto di stabilità un cambio di regole non ti sei in grado di programmare niente non ti sei in grado di fare niente e quindi che se hai bisogno che sia delle regole che sia chiare precise puntuali che solo l'indipendenza può dare punto non c'è tanti discorsi da fare ma perché l'indipendenza può dare poi un motivo molto semplice perché lo capisce tutti se una famiglia si è fatta di 21 persone e che non si è tre che porta a casa il stipendio che altri lo può continuare a mangiare lo sbaffo questo è la realtà questo è la realtà allora il comune di Villorba ha dato perché adesso parlo di istituzionale perché abbiamo anche il cittadino istituzionale di Villorba ha dato la residenza perché non è di origine il professor Antonini il professor Antonini è il professore che è stato presidente della commissione panitettica per i defenzi dettativi sul federalismo e oggi è capo di gabinetto del ministero del quagliarello per le riforme costituzionali il quale ha fatto tutto uno studio è vero che i siciliani i calabresi le regioni del sud sono state sfruttate pesantemente per il voto di scanto però è addirsi vero che 16 dipendenti per posto letto in regione calabria e i calabresi li vanno assicurati in teoria è la regione che ha più dipendenti per posto letto in Italia e che esso dovrebbe essere più all'occhiello il risultato non è questo è vero che abbiamo in comune di Villorba 90 dipendenti comune di una regione qualsiasi campana con 18.000 abitanti 330 dipendenti signori ma non se in 330 se c'hanno contratto decentrato della pubblica amministrazione che prevede un contratto sullo stipendio che dice che il dipendente della regione campana ha parità di ruolo parità di grado di indipendente della regione venito prende il doppio dello stipendio e ora questa è realtà che questo referendum vuol dire se ora definirla questo è il vero problema i comuni sono veramente in difficoltà cosa siamo e stiamo facendo per risolvere la questione è sui giornali di tutti i giorni noi a Villorba stiamo lavorando per la fusione con un comune di microfon fusione che è radicale non si parla di unione di servizi non si parla di altro ma semplicemente ci fondiamo ci dovremo fondere con il comune di Povegliano per due ordini di motivi uno razionalizzazione di servizi e di servizi migliori ai nostri cittadini due tre anni fuori dal patto di stabilità contributi regionali e nazionali cash sui conti corretti e quindi la possibilità di usare i nostri soldi per fare opere pubbliche per i cittadini e cosa più importante avere soldi per continuare a gestire l'ente signori purtroppo questa è la via fino a quando saremo costretti e assoggettati a chi è pari a noi per costituzione ma non di fatto perché ci considera dei massaggi grazie grazie